Non ho avuto modo di conoscerlo, so la sua storia, so che sta attraversando un momento difficile, complicato e che ha rappresentato per Bologna città e per la Bologna calcistica qualcosa di estremamente importante quindi quando in generale qualcuno soffre fa male a tutti, quando questa persona è anche motivo di un richiamo importante come può essere la sua figura ti intristisce ancora di più, però è stato un grande campione, adesso sta portando avanti una lotta diversa da quella che ha fatto per tanti anni sui campi da calcio e noi siamo con lui, combattiamo con lui e diamo tutto il nostro appoggio Direi che le realtà come il Sassuolo sono indiscutibilmente delle realtà da prendere un po' ad esempio, a modello è chiaro che poi per non ripeterci come tutte le realtà ci sono le proprie problematiche Bologna io credo che possa avere anche un vantaggio ulteriore che è quello di avere un bacino differente, una tifoseria differente e soprattutto una storia differente, questo credo che non sia una cosa da poco però come sempre tutte le cose non vanno pesate attraverso quello che hai fatto nel passato ma attraverso quello che poi devi fare oggi e nel prossimo futuro Il Sassuolo è un'ottima squadra, parlano i risultati, l'ultimo quello di livello internazionale che hanno fatto due giorni fa insomma è una realtà importante, è una dimensione ormai di assoluto valore e tutti gli altri risvolti non fanno altro che incentivare questo tipo di atteggiamento che deve essere veramente con un approccio al 100%, non dobbiamo assolutamente trascurare nulla e prenderci tutti quei possibili vantaggi che si possono avere ma come sempre dico dipenderà molto da noi non dobbiamo fare tanto il calcolo sugli avversari che sappiamo e conosciamo hanno anche molti giocatori giovani di grande spessore tecnico e stanno dimostrando cose grese quindi noi siamo vogliosi di misurarci sapendo che in paglio ci sono questi tre punti che fanno veramente una grandissima differenza nelle ultime due gare abbiamo lasciato sul campo qualcosa che probabilmente era lecito avere e che per un motivo o per l'altro, anche molto per colpa nostra, non abbiamo raccolto quindi questo ci deve insegnare qualcosa Grazie a tutti